Sta per entrare in vigore la nuova politica agricola comune europea per un'agricoltura più competitiva e più sostenibile. Per gli agricoltori è necessario presentare la domanda unica PAC 2015 entro il 15 giugno, un atto fondamentale per accedere e utilizzare bene i contributi europei. Per maggiori informazioni visitate il sito www.politicheagricole.it Domanda PAC 2015. Ricordate, per presentarla c'è tempo fino al 15 giugno.